E benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers Players E siamo in ginocchio E siamo in ginocchio Che dolore Siamo qui con il bullying Più piccolo Del mondo Vedete tutto Allora ci saranno 15 round e 2 tiri Ogni round a testa E chi fa il punteggio più alto Ovviamente vince E voi vedrete il punteggio da qualche parte qui Invece noi ci dovremmo armare di carta e penna Carta e penna assolutamente Teniamo però a dire una cosa Abbiamo preso spunto da questo video da Jumpy Tech Quindi ciao Jumpy Tech Magari Siamo onesti quindi Sì sì no lo diciamo Lo diciamo apertamente che abbiamo preso spunto Più che altro dal titolo Sì E più o meno anche dal video Cioè ok Cioè lui ha fatto certe cose più piccole del mondo E noi invece abbiamo trovato questo bullying Che abbiamo preso spunto dal suo canale Per vedere appunto se l'aveva portato così Esatto E abbiamo visto che non l'ha fatto C'è anche un'altra cosa che lui non ha portato E che porteremo noi più piccola del mondo Che sarà nel backstage Esatto Bene E detto questo Ci siamo già a Pitec Non guarderemo in questo video ma Lo so Siamo pronti Allora abbiamo preso carta e penna Cioè dobbiamo stare così tutto il tempo Partiremo dal secondo quadratino Adesso segniamo i punteggi Ecco anzi Ci sono indicati che c'è anche la seconda webcam Esatto Vabbè comunque ci sarà la seconda webcam Sui birilli Questa è la webcam Vedrete i birilli Boh così ci sembrava carino farlo Comincia Matthew Si tirerà in questo modo Perché è più difficile in realtà Vai Vado con il primo tiro Oh mio dio Ok 5 punti Per il primo tiro di Matthew Per il primo tiro Vai Vai Cos'è successo? Cos'è successo? Vabbè Io non ci credo Però l'ho spostato Bene Tocca a me adesso Bitch Cristo Bitch Madonna raga Sei Sono già in vantaggio Però È ancora molto lunga Non cantiamo vittoria Sono già in vantaggio Vai Mai Mai cantare vittoria Prima della vittoria stessa Rompimento di palle Non è come nel bullying Vero ovviamente Che si sistemano da soli Ma li dobbiamo sistemare noi Ovviamente Vado al secondo È il primo tiro Del secondo tiro Fra Perfetto Liscio Oh vedi Così non dobbiamo sistemare i birilli Minchia vero Adesso tiro una secca Attenzione Atta Oh Strui Oh no Oh E adesso sistemi tu Stricche Non fa niente Siffra Adesso chi è che ce l'ha il vantaggio Madonna raga Dove la palla fra Non lo so Fortuna ne abbiamo una di scorta Ok ho ritrovato la palla Per fortuna Bene Vai Secondo tiro E siamo a un z Quei palle Vai secondo tiro La cosa positiva è che non devo sistemare Liscio Non dobbiamo gridare Vai con il secondo strike Infatti Sentite i piedini che sgambettavano Madonna Madonna Quanto ce l'ho forte Quanto ce l'ho forte Che vita di merda Sono caduti tutti Tranne quello davanti Come cazzo è possibile Ieri Abbiamo provato questo gioco E io ho fatto solo una volta Ne ho buttati sei in un colpo solo Poi tutti quanti zero Madonna E' difficile questo Nove punti per me Altri nove Vediamo un po' Minchia ieri ha fatto lui così E adesso faccio io Eh si infatti gliel'ho spiegato Vai col terzo tiro Madonna Oh raga Allora Allora Mettiti qua che sei più centrato Guarda che aiuto il mio avversario Oh raga Lo faccio apposta Lo faccio apposta Lo faccio apposta Raga Lo show Lo show Fra 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 Acingo il tiro Bene Zero Sotto Porca troia che secca Ma segnatizzo Almeno non sistemiamo raga Vado io Vai Oh Oh fra Con calma Con calma Raga Fammi fare un tiro Bonti Quanti tiri è che vai a liscio Così Tutti Tutti Adesso io magari Non faccio più niente Cristo Madonna Madonna No Madonna 10 punti 10 punti Ci sono brilli In tutta la stanza Vado io Stai cazzando Probabilmente I brothers players Si scioglieranno Dopo questo video Ovviamente se si fa uno strike Il primo tiro L'altro Non si fa Bene Certo Bene Comunque se vi sta piacendo Il bullying Voi ce lo scrivete nei commenti Magari ve lo riportiamo Magari ve lo possiamo riportare Tipo una specie di torneo Giusto Mi stavo concentrando Perfetto Io tiro Ma sono carico Però ma Se mi vede quel buco Oh raga ve lo giuro Che non lo sto facendo Un po' Cioè E meno che mi ha messo Le protezioni Oh ma C'ho le dita storte Non ho capito Sapi che tu devi fare Un sacco di strike 6 punti Adesso Stai a lista Pensare che io volevo pure allungare il tavolo Oh raga Da quanto tempo è che non stiamo sistemando i grilli? Tipo due round? Da due round Vai a segnarti 00 Tranquillo Sono abituato Ormai lo fai in automatico Scrivilo fino al 15 I prossimi punti che faccio Adesso valgono due Valgono per due Adesso tiro una secca Ma che culo dai Che culo Qualcun di Ma non è più cazzo Cioè Ma io non ho parole Figa Raga Gli strike da adesso Vanno 20 Così Cioè da adesso L'abbiamo detto adesso Ma è tutto il video Che c'era sta regola Oh E' un'altra Federico Che cazzo Almeno tu Comentatelo Bravo Come cazzo Cos'è che da verso le barriere Non si racconta un cazzo Ormai che non ce l'abbiamo Benitenti 21 minuti Frate Minchia veramente E' andata bene Che cazzo Stai ferma Puttana Non l'ho fatto Giuro E' la prova Dai va bene Vai Vedi che io ti do le possibilità Ma non le sfrutti Nooo Con un pelo di cazzo Mi sono spaventato tantissimo Con il tuo Madonna Madonna Cosa ho fatto E' tra i piedi Fra Vedi Fra Aspetta che Fra il microfono Continua a cadere No fra spessa Cosa No è nullo il tiro Cosa succede Eh fra dobbiamo pulire qua Perché se sbatte Se tipo tu becchi questo Sbatti qui rimane in piedi Beh tiro nullo Bene Grazie a Matthew Ricordiamo Con questa partita Sono molto bravo Sono bravo Bastardo di me Si che poi magari Nel prossimo gioco Più piccolo del mondo Che andremo a registrare Dopo questo Magari lui mi batte subito E io piango forte Uno due tre Via Perfetto Si appresta l'undici Tiro Federico Defe Un chiamano sfiorati Non ho pensato che stavo già stendo il zero per sbaglio E Ci vuole poco da zeccare Una cosa del genere L'odicesimo round Primo tiro per il signor Matthew Con il pelo Diretti è tirare forte a caso Tipo così La stessa direzione Che mo' fuori di tre Quattro di recupero Si bravo Adesso li stai prendendo sempre Adesso li stai prendendo sempre Attenzione Adesso li stai prendendo sempre Al canestro Al canestro Attenzione Per fare commedia Madonna Nove punti Ho detto Allora recupero adesso Invece sto cazzo Mi chiamano i punti Sono pesanti Anche gli altri 47 RECINCREZZO Quanti li buttati giù? 8 Cioè nel senso Quando sono due o tre o quattro o cinque o sei o dieci È difficile da buttarli giù Penultimo round Al penultimo round Signori Primo tiro Concentrazione La sfida si fa più intensa Sta per finire Sento la vittoria in pugno Ce l'hai Dov'è l'altro? Ma lo credo è uno Aia Penultimo tiro All'ultimo tiro Devo fare uno strike Quanto adesso fa dieci? Guarda Adesso Signori Si appresta Penultimo Sì 9 punti Bitch Altri 9 Cazzo Così si rimonta Ragazzi Siamo arrivati all'ultimo Round Quindi Niente È l'ultimo round Basta No no Lasciate mi piace Comunque la cosa che ci tengo a dire È che noi nasciamo più come fan Che come youtuber Però vabbè Primo tiro Dell'ultimo round Di Matthew Attenzione Si scalda Amico Vai vai Dai via Madonna che nervoso Non si sarà visto mai Sì Fra Aia 0 0 signori Noi non sappiamo il punteggio Lo dobbiamo rileggere Voi invece sapete tutto Primo tiro Dell'ultimo round Di Defe Madonna l'ansia Fra fai uno strike per me Per il video Per i fan Riscaldati 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 Vai Dai Ed è il mio nemico lui in questo video Però No Vai Allora Per un punteggio Di 46 A 60 Il vincitore sono io Stranamente Non accadrà mai più Ma Sono felice di questo Adesso mi prendo la rivincita nel prossimo gioco Bene quindi anche questo video finisce qua Noi speriamo tantissimo che vi sia piaciuto Speriamo che vi siate divertiti come noi Come lui Perché io no No vabbè dai No dai Ovviamente scherzo Ricordiamo di lasciare un bel mi piace Di commentare Di condividere a più non posso Molto importante Molto importante Commentate anche Andate a vedere il backstage Backstage E alla prossima Ciao 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 Ciao